La stupidità della burocrazia, unita a sospetti interessi economici di dubbia trasparenza, può produrre vittime anche nel senso fisico del termine. È una storia triste quella di Dawa, un cucciolo meticcio di lupo e pastore tedesco che per diversi mesi ha vissuto in Valtaro. Una storia di cui lo scorso anno si era occupata anche la nostra emittente e che ora sta interessando persino il Tg2 Rai. Dawa era stato salvato da una situazione di precarietà e sofferenza da Barbara ed Andrea, due ragazzi liguri residenti da qualche anno in Valtaro che ne avevano ottenuto la custodia provvisoria. La nostra emittente aveva dato notizia della vicenda in quanto era in atto un contenzioso giudiziario tra i due ragazzi che volevano rendere definitivo il provvedimento di custodia e il corpo forestale dello Stato che intendeva invece affidare l'animale ad un centro specializzato per la fauna selvatica. Da allora, come sentirete nel servizio trasmesso dal Tg2 Rai, la situazione si è purtroppo evoluta in senso negativo. I cani ibridi di lupo con cui ci accoglie a Compiano in provincia di Parma Barbara Paoletti si chiamano Rosco e Raissa, selezione pregiata di pastore tedesco e lupo. La storia di Dawa per alcuni mesi, loro compagno di giochi, è diversa. La prima volta ho visto su internet un video che ritraeva un cucciolo apparentemente di lupo che veniva ritratto da questo video legato a una catena nel mezzo di un giardino di un'abitazione privata con una catena lunga una cinquantina di centimetri, non di più. Lei si è rivolta al corpo forestale? Sì. E gliel'hanno affidato? Sì, perché in realtà quel cucciolo detto di lupo, in realtà avevano fatto chiaramente degli accertamenti genetici, era risultato, si trattasse un ibrido, cane per lupo, quindi un incrocio tra un cane e un lupo. Nove mesi dopo il ripensamento, il cane è selvatico, la guardia forestale lo sequestra su ordine di un giudice e lo affida a un centro riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, dove Dawa muore per effetto di un'anestesia all'inizio di un'operazione per sterilizzarlo. La direzione del corpo forestale ci ha detto di non essere stata consultata né avvertita dell'operazione. Intanto una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che Dawa doveva restare con Barbara, il sequestro era illegittimo, il cane ormai addomesticato troppo tardi. Lui aveva trovato un ruolo nel gruppo familiare di cani che l'avevano accolto, anche se era comunque un animale esterno, insomma, venuto da un'altra parte e se erano anche già intessute quelle relazioni, quei legami che appunto tenevano questo animale all'interno di un contesto familiare affettivo che comunque sia per lui era corretto. Andrea e Barbara non intendono perciò sorvolare sull'accaduto e hanno intrapreso una nuova azione legale per far luce sulla vicenda. Il problema è che questo animale in circostanze abbastanza sospette ha perso la vita a seguito di un intervento non autorizzato, non terapeutico, quindi non necessario a salvargli la vita, è stato anestetizzato ed è stato ucciso. Di conseguenza adesso chiaramente provvedimenti sono stati già presi e sono già in corso per accertare le cause di questa morte che assolutamente non doveva esserci.